Ciao a tutti, sono Angela, benvenuti in questo nuovissimo video. Qua c'è un libro lo stesso in giapponese, in cinese, in tutte le lingue, basta. No, non dico che sia un dolore, ma la casa è una carcetta d'oro, non lo so. E' un'altra cosa, benvenuti in questo libro. In inglese, look and talk of subscriber question mail. Ciao papà di Memi. Ciao papà. 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 Guarda il mio look. Bello e molto divertente. Buon gusto. Oh no, adesso c'è ancora un paura. Sì, 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 amore, sì, ma non ti è preoccupato, amore. Quella roba, dai, lo c'è sta. Perché non cercava le cose? Amore mio, ascolciami un'altra, guarda. Dai. Amore, ma ascolti un attimo, per piacere. Signor, il genitore lì ti canno sente. Dai, non ti esco! Ma poi ho deciso di citarlo qua? No, me la deciso di citarlo io, per capire la tanga. No. Non so che ho fatto. Sono così? Ma, si metta, si metta, si metta! Stavo toccando. Sveglia! 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 il problema è che il nostro maggiore trova fai una settimana capito? sto facendo un video è Vicente? è Vicente? un bacino? ciao corri 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 ci sono riuscite però mi hanno saltato su questo me me da fare più sberta mmm 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 no 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 che noia che noia che voglia che noia dai qualcuna volta ce la faccio Andrzej stai tranquilla prima sei riuscita vai riuscita tranquillamente poi ehi ehi non ci credo mi ha fatto sono tutto triste mi ha fatto gli altri parco non mi era di guai cisto ma cosa cavolo sto facendo perché ho promesso la mappa che mi ha dato quella noemita che sembra una spinora che sembra una spinora sembra una cacchetta nooo ma qua non ci posso più saltare ma sai che ci posso saltare no no non ci posso saltare vabbè no madonna madonna mia che cavolo sto facendo perché dai mi ingana sta mappa mi ingana cavolo mi ingana però non c'è niente nell'invento non c'è niente un commentario niente uno mi ha messo così eh madonna mia sta vita che noia la vita sembra sempre un top una vita una vita con top sembra c'è il mio primo premio di disegni 2 e il mio primo premio non c'è niente sembra che è che è che è che è